Lazio contro Fiorentina, un match importante per la squadra bianco-celeste dopo la battuta d'arresto nel derby e dopo la sconfitta di Leverkusen oggi contro i Viola dell'ex Stefano Pioli. Serve una risposta immediata per riprendere il cammino in campionato e dimostrare a tutti che la Lazio c'è, è presente e lotterà in questa stagione. Lo stesso leva con il destro a rientrare in area di rigore, colpo di testa su un secondo palo immobile, rete! Ciro! Immobile! La Lazio in vantaggio, il cross di Lucas Leve in area di rigore, la sponda all'interno dell'area di Milinkovic sul secondo palo per Immobile che da sottomisura è insaccato. Lazio 1, Fiorentina 0, il gol di Ciro Immobile, 36 minuti, 30 secondi, Lazio in vantaggio. 25 secondi alla fine, probabilmente l'ultimo pallone giocato dalla Fiorentina con lungo lanci in avanti di Pezzella, pallone che spiova a centrocampo, Radu di testa, prova ad anticipare Simeone, deve tenere in campo il pallone, Lulic non ce la fa, arriva addirittura Stefano Pioli a servire a sfera all'indietro per Milinkovic, che rilancia in avanti Simeone, spalla alla porta, si gira, il tocco all'indietro, c'è la chiusura, può partire Milinkovic, contro biede, ma finisce qui! Finisce qui! La Lazio batte la Fiorentina! 1 a 0, tre punti d'oro in un momento difficile contro una squadra in forma e in salute. Il sigillo, il graffio di Ciro Immobile al 36esimo del primo tempo permette alla Lazio di vincere una partita importantissima. 1 a 0, la Lazio che tutti davano in difficoltà è morta, risponde presente con le sue armi, con Immobile, con la gritta, col carattere, sapendo anche soffrire in questo finale di gara. La Lazio batte la Fiorentina, 1 a 0, è una vittoria d'oro nel campionato bianco celeste.